La crisi per i prezzi alla stalla dei bovini di razza piemontese abbiamo intervistato Paolo Lana che è un allevatore di razza bovina piemontese. Da un anno a questa parte gli allevamenti di razza bovina piemontese vivono una situazione di crisi con i prezzi alla stalla impicchiata. Le prospettive oggi sono incerte, qualche segnale positivo arriva per il mercato delle vitelle. Le ripercussioni più negative da alcuni mesi si registrano per le quotazioni dei vitelloni da macello arrivati in questi giorni a spuntare appena 3 euro più IVA al chilogrammo di peso vivo. Ecco la nostra intervista a Paolo Lana, allevatore di razza bovina piemontese. Da un anno a questa parte è una situazione di crisi. Prima col primo lockdown c'è stata una crisi principalmente sul flusso di vendita delle vacche, più o meno i prezzi comunque avevano sempre tenuto sulle vacche da macello ben finite, mentre erano comunque anche rallentati invece i volumi di vendita sia delle giovenche che delle vitelle da macello che dei vitelloni. Da circa 8-9 mesi a questa parte con la fine del primo lockdown invece si è assistito un progressivo calo delle quotazioni, in principal modo dei vitelloni che sono effettivamente arrivati a un prezzo, io sto parlando della mia stalla, di circa 3 euro più IVA peso vivo. Quali sono le ragioni di questa crisi? Le ragioni della crisi sono molteplici. Sicuramente filiera che hanno, delle A3I, in special modo che hanno sottratto al mercato una parte della piemontese, una mancanza di strategia molte volte da parte del nostro consorzio di tutela. La commercializzazione non avviene solamente più sui canali delle macellerie, ma purtroppo bisogna anche aggredire la GTO e sappiamo tutti che i buyers, i compratori della GTO sicuramente non sono soggetti facili. In più, secondo me, è una forma speculativa anche in molti casi da parte dei macellatori, che ovviamente sapendo che noi comunque abbiamo della merce che è deperibile e una volta comunque giunta a fine peso per singola tipologia di bestia, ovviamente deve essere venduta. A fronte di questa situazione, quali sono le prospettive? Le prospettive io credo che siano molto difficili da definire, nel senso che nessuno di noi purtroppo ha la bacchetta magica. Oggi assistiamo a un mercato delle vitelle che fino a circa un anno fa, non voglio dire che era stagnante, ma comunque aveva un flusso pari a quello dei vitelloni, leggermente rallentato. Oggi, ripeto, parlo sempre per la mia azienda, da martedì scorso che avevo contrattato delle vitelle, lunedì me le hanno già portate via 4, a dei prezzi che comunque sono economicamente remunerativi. Come ho già detto prima, la crisi riguarda soprattutto i vitelloni da macello e a cascato ovviamente riguarda tutte le aziende che fanno in questo caso, che producono vitelli per il ristallo. Da parte di voi allevatori, quali sono le ricette e le indicazioni per tentare di uscire da questa crisi? Principalmente, io mi rifaccio al momento attuale, molte volte noi sentiamo dei prezzi, io conferisco per esempio in modo totale alla Coeco, sentiamo comunque che ci sono dei prezzi che le cooperative offrono a noi allevatori e quindi essendo cooperative di allevatori che sono inferiori comunque a quelle che offrono i singoli macellatori in altre stalle. La seconda cosa, sicuramente di fronte ad una popolazione bovina da macello che riguarda circa 120.000 unità, 130.000 unità annue, sicuramente ci dovrebbe essere un consorzio di tutela che valorizzi meglio e controlli meglio tutta la filiera in questo caso, quindi fino alla macellazione. In passato ci sono stati altri momenti di crisi più o meno simili e come se ne erano usciti? Sì, ci sono stati, io mi ricordo benissimo a Mucca Pazza in cui i prezzi crollarono in modo repentino, ma su Mucca Pazza comunque il crollo dei prezzi riguardò quasi tutti i settori merceologici, quindi vacche, vitelle e vitelloni. In questo momento il calo di prezzo inammissibile riguarda principalmente invece il vitellone da macello. Forse l'altra volta ne siamo usciti con un pochino di fortuna, con una migliore fase aggregativa, sicuramente questa volta anche di fronte all'emergenza Covid credo che bisognerà riformare sicuramente le nostre offerte di vendita da parte delle nostre cooperative e dei consorzi di tutela in modo comunque da essere più uniti di fronte a dei competitor come sono i macellatori che invece sanno sfruttare benissimo le nostre debolezze.